Il nuovo sindaco di Soverato, una vittoria che si aspettava o in attesa? Io dico che è una vittoria inaspettata nei numeri, perché questa percentuale proprio di preferenze su progetto cambiamenti è stato un risultato pubblicitario, parliamo di oltre il 91% di consenso, quindi questo ci permetterà di avere quella carica in più proprio per attuare una trasformazione all'interno della città. Io sono molto soddisfatto perché continuo quel progetto che è partito nel 2015 e sono orgoglioso di portarlo avanti come sindaco e anche va in merito a tutta la squadra e tutti i componenti della squadra. Lei è stato reggente nell'ultimo periodo, anche un lavoro che è iniziato prima, il 91% direi una vittoria da record. Sì, secondo me da memoria storica è una vittoria che non si è mai vista soverato. Sono stato reggente per sei mesi dove ho lavorato in maniera lacramente in modo da portare avanti quello che bisognava chiudere sull'amministrazione precedente. Questo per me è stato un onore perché l'ho fatto dall'oggi al domani, quindi non era nemmeno programmato. Questo mi inorgoglisce perché essere sindaco della terza città della provincia di Catanzaro può fare solo onore. Io dico che ci sono ancora molte opere da completare che sono state avviate. Io sono stato anche sette anni assessore ai lavori pubblici, quindi ci sono molte opere pubbliche che bisogna completare. C'è la piazza, l'opera che per me è quella più importante che è la reggimentazione delle acque, che forse è un'opera che non si fa politica perché è un'opera che non si vede, però è un'opera che permette di evitare sempre gli allagamenti che avvengono durante la stagione invernale. C'è da completare il palazzetto dello sport che è stato iniziato. Molte opere sono state già fatte, come il Corso. Io dico che c'è un programma ancora molto che bisogna lavorare sul cambiamento della città, non solo le opere pubbliche, ma c'è un programma anche sul turismo perché è importante coinvolgere anche l'imprenditoria locale perché oggi Soverato gode di molte presenze, però noi dobbiamo puntare anche su un turismo di qualità e oggi siccome è cambiato il modo di fare turismo, dove le persone concentrano le ferie tutti in una settimana e dieci giorni, bisogna permettere a chi viene qua a Soverato di trovare tutti i comfort legati proprio a un turismo breve.